Radio Cusano TV Italia Benvenuti e bentornati da Riccardo Borgia con questo nostro spazio di approfondimento sportivo legato anche al momento che stiamo vivendo ovvero l'emergenza coronavirus che ci spinge chiaramente a rimanere tutti a casa e uno degli argomenti, uno dei settori più coinvolti oltre quello sanitario è sicuramente quello sportivo con i vari atleti chiusi a casa che non possono allenarsi e tutte le manifestazioni nazionali e internazionali annullate come ad esempio gli europei, le olimpiadi di Tokyo e sicuramente una delle manifestazioni a livello mondiale spostandoci in America più importanti annullate è proprio la NBA e per parlare di NBA com'è la situazione al momento lo facciamo in collegamento Skype con il giornalista Davide Chinellato Buonasera Ciao, buonasera a tutti Allora Davide partiamo intanto da un'introduzione da te, dalla tua passione per l'NBA e per il grande basket come ti sei avvicinato a questo sport? Beh io sono un appassionato di sport in generale, il basket è stata una delle rivelazioni l'NBA in particolare l'ho scoperta non da bambino insomma, l'ho scoperta quando avevo già 15-16 anni e poi me ne sono innamorato definitivamente al mio primo viaggio negli Stati Uniti ormai ahimè per me nel 2003 sono passati un po' di anni quando ho visto dal vivo ho capito anzitutto la differenza che c'era con il basket italiano ed europeo e poi quanto quel modo di vivere lo sport e il basket fosse un po' più simile alla mia personalità al mio modo di intendere le cose, da lì è stata un crescendo e l'ho trasformata nel mio lavoro Perfetto, ecco a proposito proprio dell'NBA tu sei stato il primo giornalista internazionale inserito nel gruppo per la votazione dell'MVP Finals, ecco com'è stare nel circuito quindi all'interno proprio di quel mondo di cui parlavi prima? Beh è un mondo completamente diverso da quello a cui siamo abituati a livello di giornalismo sportivo in Italia lì il rapporto con i giornalisti non è un di più ma è considerato parte integrante del lavoro e questa è un mantra che vale per tutti da Lebron James che stavo vedendo nelle vostre immagini all'ultimo dei giocatori tutti sanno di dover parlare con i giornalisti l'accesso che i giornalisti hanno ai grandi protagonisti non solo i giocatori ma anche i dirigenti stessi è regolamentato e molto molto più ampio di quello che c'è in Italia per cui da un lato il lavoro mio insomma di noi giornalisti è molto più facile dall'altro devi comportarti bene ci sono situazioni, ci sono modi di fare che in Italia sono normali che lì sono considerati maleducati o insomma ti danno dei problemi devi capire quali sono i tuoi spazi, rispettare gli spazi che ti vengono dati e muoverti all'interno di questi spazi se lo fai mostrando il massimo impegno, se lo fai mostrando voglia di essere parte attiva integrante della comunità NBA vieni premiato come è capitato a me con il voto per l'MBP delle Finals Perfetto, ecco ora tuffiamoci nell'argomento principale parliamo della stagione che si è interrotta nell'NBA spiegaci un po' a che punto eravamo arrivati e chiaramente a che punto si è fermata la stagione la stagione è ferma dall'11 marzo la partita che ha fatto scattare la sospensione è stata quella tra i Thunder di Danilo Gallinari e gli Utah Jets di Rudy Gobert, il primo giocatore NBA a risultare positivo al coronavirus ce ne sono stati poi altri nove in quel momento ci stavamo preparando alla volata playoff mancava circa un mese alla fine della regular season che sarebbe dovuta terminare il 15 aprile erano definite praticamente 15 delle 16 posizioni che portano ai playoff quantomeno i nomi delle squadre che avrebbero partecipato la postseason dove vanno le migliori otto squadre per conference c'era ancora da segnare l'ottavo posto nella Western Conference con Memphis a sorpresa che aveva comunque un certo margine sulle inseguitrici poi sarebbero state da definire un sacco di cose cominciare dai piazzamenti nelle varie conference e anche i piazzamenti per la lottery del draft la lotteria che assegna la prima scelta assoluta al draft che in teoria si dovrebbe fare il 25 giugno in pratica molto probabilmente verrà rinviato però ecco c'erano ancora dei verdetti da assegnare e poi ci sarebbero stati i playoff a partire dal 18 aprile che portano all'assegnazione del titolo per cui eravamo proprio nel momento caldo ecco abbiamo visto diversi casi positivi all'interno della NBA e chiaramente legati anche a problematiche economiche come si è visto nella Serie A e in Italia abbiamo visto gli Utah Jazz addirittura licenziare dei propri dipendenti per problematiche economiche come sta vivendo la NBA che è vista forse dall'Italia un mondo dorato? è una situazione in evoluzione i proprietari e i giocatori sanno bene che cancellare quel che resta di questa stagione comporterebbe circa un miliardo di dollari di mancati ingaggi e i giocatori partecipano scusate di mancati introiti i giocatori partecipano a questi introiti sotto forma di stipendi il famoso salary cap cioè il monte salari su cui si basa il sistema sportivo statunitense viene calcolato proprio sulla base di quello che è l'NBA in cassa per cui se l'NBA in cassa meno soldi ci rimettono anche i giocatori con questa situazione in evoluzione le squadre perderanno dai 40 ai 50 milioni di dollari ciascuna in caso appunto di mancata di disputa della stagione si sta cercando di capire in pratica se la stagione 2019-2020 può essere conclusa oppure no anche a costo di stravolgere la formula abituale a cui l'NBA è abituata anche a costo di cancellare quel che resta della regular season anche a costo di non avere i playoff al meglio delle sette partite ma per esempio una delle soluzioni di cui si è discusso trasportare tutto il grande carrozzone NBA in un'unica città Las Vegas è la candidata principale ma si è parlato anche di un'isola delle Bahamas o delle Hawaii o di Atlantic City che è l'altra grande mecca del gioco d'azzardo nell'Ice Coast mentre Las Vegas ovviamente è nel deserto del Nevada trasportare tutto il circo NBA lì tenere i giocatori in isolamento sotto stretto controllo medico e terminare la stagione anche a costo di stravolgere completamente il calendario e fare in modo per esempio che la stagione 2020-2021 cominci il giorno di Natale e si concluda ad agosto inoltrato con la conseguenza che le stare in via non andranno alle Olimpiadi in questo momento tutte le opzioni sono sul tavolo dal riuscire a proseguire la stagione così com'è con le 18-20 partite per squadra che mancano di regular season più i playoff sapendo bene che ci vorranno circa tre mesi per completare la stagione appunto stravolgere tutto quanto addirittura a cancellare la stagione se l'emergenza sanitaria non dovesse concedere il tempo di tornare in campo l'NBA sa bene però che non è una scelta sua quando tornare a giocare ma che il virus in questo momento soprattutto ovviamente l'evoluzione del virus negli Stati Uniti a dettare i tempi di un eventuale ritorno in campo non giocare è la soluzione che non vuole nessuno perché come spiegavo prima i giocatori partecipano in qualche modo alle perdite dei proprietari NBA per cui si tratta di aspettare probabilmente ancora un paio di mesi fino al primo giugno che si sono dati come data principale in cui capire se si può tornare a giocare oppure se si deve cancellare la stagione e vedere quello che succede Ed è quello poi che sta accadendo in Italia con la decisione di tagliare gli stipendi ai giocatori e si sta continuando a discutere su questo proprio per salvare a livello economico o almeno una fetta dello sport italiano e come hai detto tu dello sport statunitense ecco parlando ora delle Olimpiadi c'è questo appuntamento che è stato rinviato dall'estate 2020 all'estate 2021 chiaramente i giocatori NBA partecipano alle Olimpiadi e cerca come hai detto tu prima di regolarizzare anche questo per permettere ai giocatori di partecipare Sì diciamo che il fatto che il CIO abbia dato delle date certe per i giochi olimpici dal 23 luglio all'8 agosto 2021 appunto consente anche all'NBA di programmare bisogna però tenere presente che quando si parla di NBA si parla di una lega privata il cui scopo principale è quello di fare soldi quindi le Olimpiadi se dovessero come dire se non ci fosse altro modo per salvare la stagione se non quello di fare in modo che il 2020-2021 slitti e cominci a Natale come dicevo prima le Olimpiadi verranno serenamente bypassate e tutti i giocatori NBA non solo le star americane ma tutti i giocatori indipendentemente dalla nazionalità vale anche per i nostri italiani che giochino in NBA sarebbero costretti a saltare le Olimpiadi e a rispettare l'impegno con la propria franchigia che è ovviamente quello più importante una perdita per tutto il movimento olimpico una perdita per il basket una perdita per Team USA soprattutto che aveva nel roster preliminare di 44 solo giocatori NBA e che vedeva nelle Olimpiadi di Tokyo dopo il grande fallimento al mondiale cinese della passata estate la grande occasione di riscatto le principali star l'avevano già adocchiato l'appuntamento di Tokyo Seth Curry aveva detto che ci sarebbe stato Kevin Durant lo vedeva come il momento in cui tornare in campo dopo un anno di inattività per la frattura del tendine d'Achille rimediata alle scorse finals Lepro James stesso aveva detto che probabilmente ci sarebbe stato per inseguire il terzo oro olimpico della sua carriera probabilmente l'ultimo se le star NBA potranno partecipare all'Olimpiadi ovviamente dipenderà dalla stagione NBA è troppo presto per dirlo ancora si tratta di aspettare di capire che cosa deciderà l'NBA e poi di conseguenza si potrà parlare della partecipazione delle star al torneo olimpico in questo momento per come si stanno mettendo le cose la vedo davvero a forte rischio e ecco parlando ora di una domanda un po' forse delicata prima del virus delle problematiche del virus c'è stata una grave perdita nel basket internazionale ma anche italiano perché ha giocato comunque Bryant diversi anni in Italia come è stato visto questa perdita nell'NBA ma anche negli addetti ai lavori una perdita terribile per tutti io ho avuto la fortuna di essere mandato a Los Angeles dalla gazzetta dello sport nei giorni immediatamente successivi alla sua scomparsa il dolore era palpabile per le strade di Los Angeles il dolore degli addetti ai lavori di chi l'aveva conosciuto era fortissimo Kobe è un giocatore che ha lasciato un segno indelebile nella storia dell'NBA e nella storia dello sport in generale la sua famosa mamma mentality che non è altro che la voglia costante di migliorare di essere la miglior versione possibile di se stesso lavorando su se stesso ogni giorno è una filosofia di vita che si può applicare davvero a qualsiasi ambito non solo dello sport ma della vita in generale credo che la sua morte abbia portato alla luce quante persone non solo nel mondo del basket siano state influenzate dalla sua figura dalla sua persona dal suo modo di essere soprattutto quello che davvero ha fatto male che Kobe aveva smesso da tre anni e mezzo di giocare e sembrava godersi la vita come non mai prima d'ora il rapporto con la figlia con una delle quattro figlie Gianna quella che è morta con lui nell'incidente di elicottero sembrava davvero speciale Kobe aveva vinto un Oscar con il meraviglioso cortometraggio animato nato dalla sua lettera da dio al basket era lanciato in tantissimi progetti dalla creazione di storie di libri per bambini all'insegnare il basket non solo alla sua figlia a tredicenne ma alle altre ragazze della sua squadra alla Mamba Academy una perdita pesantissima per tutte hai ricordato tu quanto Kobe fosse importante per l'Italia e credo che qui in Italia si sia sentita particolarmente perché era l'unica superstar assoluta uno dei migliori giocatori di sempre a parlare italiano e non capita ovviamente spesso e non solo parlava italiano ma ogni volta che incontrava qualcuno di italiano voleva ricordare la nostra lingua voleva rivolgersi nella nostra lingua io ricordo un'intervista che gli fece ormai un paio di anni fa in cui mi raccontò che per insegnare alla sua terzogenita Bianca a dare il 5 le cantava Gimme 5 di Giovanotti questo vi fa capire quanto la cultura italiana si è rimasta in Kobe per il fatto che comunque ci ha vissuto per 7 anni dai 6 ai 13 e quanto per Kobe l'Italia fosse speciale credo che nei giorni immediatamente successivi e la sua scomparsa l'Italia tutta non solo quella sportiva gli abbia dimostrato quanto Kobe fosse speciale per noi è una perdita davvero gravissima l'Embiene sentirà la mancanza lo avrebbe onorato alle Finals lo aveva già onorato allo Stargame non solo dedicandogli il premio di MVP della partita delle stelle se si fosse continuato a giocare lo si sarebbe continuato ad onorare come merita assolutamente ecco tornando ora al campo e nel dettaglio quello virtuale abbiamo visto che la tecnologia negli Stati Uniti ma in America è comunque molto presente è partita una lega ecco di NBA virtuale per sopperire alla mancanza delle partite sul campo reale com'è la situazione di questa evoluzione chiamiamola così beh è un tentativo di riempire il palinsesto di ESPN che poi è il network principale sportivo secondo me è un bel tentativo è un tentativo intanto patrocinato sia dall'NBA stessa che dall'associazione giocatori che ovviamente da NBA 2K che fornisce che ha fornito appunto il videogioco ha riunito 16 giocatori il nome più eclatante è quello di Kevin Durant e li ha fatti sfidare a NBA 2K cioè praticamente vediamo i giocatori usare loro stessi in modo virtuale è un bel esperimento la prima giornata devo dire ha funzionato sia per il gioco e abbiamo visto davvero dei giocatori che hanno dimostrato di avere nei videogame il loro hobby sia perché mentre giocano i giocatori sono inquadrati parlano tra di loro e raccontano una serie di aneddoti interessanti da come si vive in quarantena all'avversario più difficile che hanno affrontato credo sia una bella distrazione in questo momento in cui lo sport praticato da gente vera non è possibile si cerca questo modo alternativo ma secondo me è interessante comunque di offrire contenuti sportivi alle persone in tutto il mondo credo che lo sport sia importantissimo sarebbe stato importantissimo in un momento come questo dove siamo tutti costretti a rimanere a casa abbiamo tutti bisogno non solo di qualcosa che ci distragga ma di qualcosa a cui appassionarci in mancanza delle partite vere credo che le partite virtuali siano un'ottima alternativa secondo la tua esperienza visto il momento che siamo costretti a vivere di rimanere a casa che hai seguito comunque diversi diversi atleti qual è la problematica maggiore che possono riscontrare gli atleti sia a livello fisico di allenamento sia anche a livello psicologico nel non potersi allenare a pieno o comunque non poter giocare credo che anche loro siano vittime tra virgoletto ovviamente le vittime vere in questo momento sono altre però insomma credo che anche loro sentano l'incertezza del momento mi spiego si stanno stanno cercando di mantenersi in forma senza sapere quando dovranno tornare a giocare ed è qualcosa a cui non sono abituati perché nella routine di un giocatore NBA ci sono diverse fasi cioè la fase diciamo dell'off season che è quella che possiamo paragonare forse a questo momento che stiamo vivendo cioè la fase senza partite quella in cui il campionato è finito e si aspetta all'inizio del prossimo lì i giocatori vanno in vacanza possono muoversi sanno che hanno una data precisa in cui comincerà il training camp in questo momento non si sa assolutamente nulla non si sa se la NBA potrà riprendere quando eventualmente potrà riprendere o se si dovrà passare direttamente la prossima stagione per cui per loro in modo particolare credo sia complicato allenarsi a pieno ritmo come se dovessero riprendere a giocare domani credo sia stato Enes Kanter l'ultimo a dire che ci vorrà comunque un po' di tempo per ciascuno di loro per tornare ad essere in forma c'è un'altra fase che invece ha sottolineato Lebron James che è quella che i giocatori hanno fermato il loro motore proprio nel momento in cui devono portarlo al massimo dei giri lo sentono di più i giocatori come Lebron appunto che cominciano ad avere una certa età ma vale un po' per tutti stavamo entrando nella fase clou quella in cui le squadre che fanno i playoff devono aumentare i giri e arrivare in forma da qui a un mese il motore di questi giocatori si è fermato e poi c'è la parte proprio pratica molti giocatori non hanno per esempio una palestra in casa come cito di nuovo Lebron James ha le squadre quando hanno chiuso i centri di allenamenti hanno provveduto a mandare a ciascuno di loro gli attrezzi del mestiere penso a Tia Pirulana i pesi eccetera eccetera però ecco ognuno di loro si allena in uno spazio limitato e molti di loro l'NVP Jani Santito Cumpo è uno di questi ma anche Seth Curry fino a qualche giorno fa non hanno un canestro in casa per cui ci troviamo con star del basket che possono fare allenamenti di qualsiasi tipo tranne quelli specifici per il loro sport è un problema che andrà analizzato se e quando si potrà tornare a giocare perché avremo giocatori che non hanno toccato il pallone per diversi mesi e ovviamente potrà essere un problema un unico nella vita di ciascuno di loro con cui fare i conti se e quando la stagione potrà riprendere anche perché comunque come nel calcio o nel nuoto si andrà poi incontro a infortuni magari visto che poi dopo la quarantena si riprenderà col ritmo di tutti i giorni col ritmo normale e quindi si potrà incorrere in infortuni beh sicuro avremo una stagione atipica una stagione nuova per tutti probabilmente non penso come dicevo prima penso che sia molto difficile che l'NBA possa riprendere con la sua routine normale per cui avremo giocatori che dovranno tornare al picco di forma in fretta e concentrare il loro stato di forma al massimo livello per un diverso periodo per un periodo abbastanza lungo giocando tante partite in un periodo limitato credo che il rischio infortuni sia dietro l'angolo per tutti negli scorsi playoff abbiamo avuto soprattutto le finals degli infortuni a catena pesanti penso a Kevin Durant appunto che ci ha dato prima ma anche Clay Thompson infortuni che hanno forse influito anche sul risultato stesso della competizione credo che quando si riprenderà a giocare gli atleti debbano stare molto molto attenti ad evitare questo rischio infortuni che sarà sicuramente alto dopo quello che hanno vissuto ecco in chiusura Davide ti chiedo sempre una domanda personale più che altro dei consigli da dare magari a quei ragazzi che si vogliono avvicinare al mondo del basket chiaramente sognando le stelle NBA ma anche dei ragazzi che vogliono avvicinarsi al tuo lavoro magari con un obiettivo come lo sport come lo segui tu allora per chi vuole giocare a basket forse non sono la persona più indicata ovviamente l'ideale sarebbe giocare il più possibile in questo momento non è non è possibile dobbiamo tutti stare a casa penso che solo in pochi possono avere una palestra in casa o comunque un canestro su cui allenarsi ci sono mille modi di rimanere in forma però di lavorare su se stessi se cercate un modo per migliorare giocate a basket vi consiglio di andare a riscoprire gli allenamenti di Steph Curry con la pallina da tennis Curry ha lavorato tantissimo su se stesso per diventare uno dei più forti giocatori in circolazione e uno degli allenamenti che faceva era con una pallina da tennis ovviamente l'ingombro è meno importante rispetto a una pallina da basket magari qualcuno ha palline di altro tipo in casa però ecco la manualità che a Curry si può raggiungere anche senza andare in palestra ogni giorno per quanto riguarda invece gli aspiranti giornalisti ovviamente questo è il periodo perfetto per guardare le partite e per leggere tantissimo il consiglio che posso dare è di cercare di leggere il più possibile di leggere di tutto non solo articoli sportivi magari dello sport che volete seguire ma articoli sportivi in generale di professionisti che vi possano indirizzare verso la creazione di un vostro stile che poi è la cosa che ognuno di noi deve avere ed è anche una buona occasione per guardare le partite le partite dello sport di cui vi appassionate e di cui volete scrivere tempo a disposizione credo ce ne sia per tutti sia per chi lavora sia per chi studia sia per chi non ha nulla da fare in questo periodo di quarantena il mio consiglio è quello di usarlo al meglio in modo che possiate diventare che possiate avvicinarvi il più possibile a quelli che sono i vostri sogni una volta che si potrà riprendere un'apparvenza di normalità e quei sogni si potrà tornare ad inseguirli assolutamente io ti ringrazio Davide per averci esposto ecco il mondo NBA in questo frangente di coronavirus ma anche chiaramente dei consigli utili anche quest'ultima chicca di allenamento grazie per il tuo spazio grazie a te grazie a voi tutti ringrazio anche i nostri telespettatori che ci hanno seguito lungo questo spazio di approfondimento sportivo legato al mondo americano della NBA ringrazio chiaramente tutti quelli che ci hanno seguito sempre sul canale 264 del digitale terrestre e l'informazione di Radio Cusano TV Italia continua grazie a tutti